Buongiorno, benvenuti al TgMed. Questi sono i titoli principali. Come avete visto si cerca tra i dispersi degli attentati di Bruxelles anche una donna di 48 anni di origini siciliane della provincia di Enna e dispersa dall'altro ieri. Secondo le testimonianze dei suoi colleghi d'ufficio ogni mattina prendeva la linea della metro per scendere alla fermata Schumann a 200 metri dal Parlamento europeo, la linea colpita da uno dei due attentati. Le ricerche proseguono in queste ore. Noi di cosa significa vivere con il terrore in casa e soprattutto per cercare di capire cosa adesso cambia magari in maniera irreversibile per tante cose. Dopo gli attentati di Bruxelles tutte queste considerazioni le svilupperemo con l'onorevole Caterina Chinnici che è nostra ospite. Grazie per essere con noi. Lei fra l'altro è una esperta per quelle che sono le sue funzioni proprio riguardo i temi dell'antiterrorismo, della lotta trasnazionale alle diverse forme di terrorismo. Le chiedo subito qual è la sua sensazione lei che due giorni fa era a Bruxelles? Sì ero a Bruxelles e devo dire si è creata subito un'atmosfera davvero particolare, quasi surreale, lo sgomento, il dolore. Poi devo dire per me il primo pensiero è stato proprio alle vittime, ai familiari delle vittime, perché io so cosa significa vedere uscire una persona a te particolarmente cara come ogni mattina e poi ecco quella persona non tornerà mai più. Le chiederò onorevole dopo una brevissima pausa cominciamo proprio a parlare della capacità che l'Europa deve avere collettivamente. Forse è venuto il momento di cambiare i sistemi di intelligence. Negli Stati Uniti c'è l'FBI, qualcosa di simile non c'è in Europa. Non c'è in Europa e bisogna costruirla, bisogna mettere da parte diciamo i nazionalismi e mettere insieme le forze. Riprenderemo da questo, allora ci ritroviamo insieme al TG Med tra un attimo. I attentati di Bruxelles, di cosa cambia nella gestione della sicurezza e per il rispetto della libera circolazione nei 28 Stati membri dell'Unione, di quella che è la percezione che abbiamo della minaccia dell'integralismo islamico e anche di altro. Parliamo subito con Caterina Chinnici, deputato europeo del Partito Democratico. Onorevole, parlavamo proprio della necessità, probabilmente gli attentati di Bruxelles imprimono un colpo di acceleratore in tal senso, della necessità per l'Europa di dotarsi di un sistema di intelligence coordinato. Certamente, io credo che ormai non c'è più tempo, bisogna agire e bisogna agire immediatamente. Come? Con una legislazione adeguata. Io personalmente sto lavorando all'aggiornamento della direttiva contro il terrorismo, quindi introducendo quelle figure di reato che rispecchino quella che è la situazione attuale, quindi l'idea dei viaggi per scopo di terrorismo, il reclutamento, l'addestramento, il finanziamento al terrorismo e così una serie di altre misure. E poi l'integrazione dei servizi di intelligence e la cooperazione di polizia. E a questo scopo occorre accelerare la costituzione di una procura europea che abbia una competenza specifica per contrastare il terrorismo. Senta, in tal senso, visto che lei conosce perfettamente la materia, quali sono dal suo punto di vista le resistenze più grandi, da quali stati arrivano? Proprio cedere una quota della propria sovranità per metterla però a servizio dell'intero, dell'intero unione? E dice bene, ecco, la sensazione purtroppo che c'è da quasi tutti gli stati purtroppo è quella di essere costretti a cedere sovranità. Io invece credo che bisogna, e mi auguro che questo episodio così drammatico, ecco, induca a cambiare l'atteggiamento, non a cedere sovranità, ma a mettere insieme, a mettere in comune sovranità. Quindi mettere insieme le risorse, e mettere insieme gli strumenti, giovarsi uno stato delle esperienze dell'altro. In questo senso noi in Italia possiamo essere un riferimento perché abbiamo maturato una legislazione particolarmente valida ed efficace. Abbiamo delle esperienze di attività investigativa, di attività di indagine di livello veramente elevato e possiamo essere un riferimento in questo senso. Mentre eravamo in pubblicità, l'onorevole Chinici ci spiegava che è in corso una sorta di periodo verde per le attività parlamentari. Era già stato calendarizzato, quindi anche la settimana dopo Pasqua sarà dedicata alle attività sul territorio, nei territori di provenienza dei singoli parlamentari. Si riprenderanno le attività lunedì 4 aprile. Facile immaginare che si partirà proprio dagli attentati. Sicuramente, sicuramente. Tra l'altro lei consideri che proprio la mattina di martedì scorso, il giorno 22, io avevo due incontri proprio per discutere della direttiva contro il terrorismo. Quindi sicuramente riprenderemo da lì. Certo. Vorrei anche toccare con lei un altro argomento, perché lei è stata la relatrice del nuovo pacchetto di norme per il processo minorile in Europa sul modello, che lei conosce alla perfezione, della normativa italiana. Beh sì, in effetti io trasfuso la mia esperienza nella prima direttiva che tocca appunto il tema del processo penale minorile, per uniformare le legislazioni che oggi sono molto diverse e per inserire adeguate garanzie per i minori che diciamo siano sottoposti al procedimento penale. Fra queste la più importante è l'assistenza del difensore fin dall'inizio delle indagini. È ancora la specializzazione per esempio della magistratura, degli avvocati. Oggi solo in sei paesi su 28 esistono uffici giudiziari specializzati. E poi il principio fondamentale è la detenzione separata del minore rispetto agli adulti. Quali differenze lei ha trovato in itinere, man mano che ovviamente si discuteva di questo nuovo pacchetto, con gli altri stati? C'erano degli stati che rispetto all'esperienza italiana erano ancora indietro? Sì, direi di sì. E siccome la direttiva, al di là del fatto che riguarda i minori, comunque tocca aspetti fondamentali del processo penale, devo dire che ha richiesto un negoziato, un dibattito davvero, davvero, davvero impegnativo. Il principio per esempio dell'assistenza del difensore in tutte le fasi del processo è stato uno di quelli maggiormente ostacolati e devo dire da molti, molti paesi. Complimenti a lei allora per questo tipo di impegno, perché è certamente un passo in avanti per l'intera Unione Europea. Grazie anche per le sollecitazioni che lei ci lascia relativamente ai fatti che la cronaca quotidianamente ci regala. Noi continueremo a seguire anche le attività del Parlamento dal 5 aprile in poi, dal 4 aprile in poi, quando ovviamente si ripartirà proprio dagli attentati di Bruxelles. Grazie a Caterina Chinnici.